ciao ragazzi benvenuti a Q&A siamo qui con Cristian ciao ragazzi ciao Luca ciao Cristian dunque quali azioni e o attività svolgere nei momenti di crollo emotivo allora questa è una bella domanda io mi ricordo che ha avuto dei dei momenti abbastanza traumatici e legati alcune vicissitudini familiari che mi perseguitavano mi ricordo che in quei momenti io mi guardavo un video di Arnold Schwarzenegger che ancora adesso se lo guardo mi dai a carica mi emozionano un paio in particolare e quindi ecco io mi ricordo che in determinati momenti guardavo quei video e mi davano una carica ulteriore per uscire da una situazione abbastanza complessa e quindi ecco direi che ognuno può trovare una sorta di ancora tenendo sempre presente che bisogna anche tenere gli occhi sull'obiettivo cioè anche a volte avere il focus sull'obiettivo che vuoi raggiungere dire ti spinge a non fermarti e a rimanere vittima di quella situazione bensì fare qualcosa per uscirne ok che a fine quello che conta è non fermarsi e andare avanti bisogna continuare a battere il chiodo purtroppo grazie saluto grazie a tutti